Nubi fragi e vento che soffia fino a 70 km orari, il maltempo colpisce la Liguria e si prevede impeggioramento. Ecco le immagini dalla provincia di La Spezia, dove il fiume Vara ha esondato in più punti, provocando allagamenti e l'interruzione di strade provinciali. Frane tra Varese Ligure e Maissana. Simile scenario a Imperia, con frane allagamenti nella frazione di Costa Doneglia. Attesi 120 mm di pioggia. In Toscana, codice giallo per pioggia e vento forte, ancora allerta rossa in Emilia Romagna per il vento. Occhi puntati su Venezia, atteso picco di acqua alta di 135 cm per domani sul medio mare, con l'inalzamento delle barriere del Mose appena testate. Sarebbe la prima volta. Intanto in Piemonte è stata attivata la sala operativa della protezione civile, con allerta arancio nel torinese. Secondo le previsioni, il maltempo si sposterà al nord-est con rovesce temporali domani e anche forti, migliorando invece nel nord-ovest e con rovesce temporali nel centro Italia, escludendo le piogge previste in Campania, tempo migliore soltanto al sud.